Parliamo di estrema povertà, di disagio se vogliamo assoluto. Giuseppe Cicco è lo psicologo della cooperativa On The Road, dove ci troviamo in questo momento. È un'attività sicuramente difficile, ma vi riempie il cuore? Beh sì, è un'attività sicuramente piena di difficoltà. Con il nostro servizio, il nostro centro di urno, apriamo uno spazio a queste persone dove possono trovare sia uno spazio più fresco la mattina, dato i condizionatori che abbiamo installato nello spazio sosta. Offriamo la colazione, hanno possibilità di ricaricare il telefono, servizio doccia. Inoltre, grazie anche al progetto Ipon, con la collaborazione del Comune di Pescara, siamo riusciti ad allestire kit abbigliamento, kit alimentari e kit igiene. Abbiamo anche il nostro dottore di strada per somministrare eventuali farmaci ai nostri utenti. In questo periodo stiamo avendo diverse richieste, sia per la realizzazione anche del Green Pass. Infatti stiamo accompagnando, grazie anche alla collaborazione di altri entri sociali, siamo riusciti a portare diverse persone a vaccinarsi. Dal punto di vista meteo stiamo vivendo un momento di grande emergenza. Se ci riferiamo poi agli anziani ancora di più, situazioni complicate. Sì, arrivano anche molte persone anziane, sia con problemi, con patologie pregresse, anche con problematiche psichiatriche. Noi cerchiamo di convogliarli il più possibile ai servizi, di dotarli dei kit igiene, kit alimentari. Abbiamo attività laboratoriali che per il momento, col periodo Covid, sono state sospese ma riprenderanno. Abbiamo ripreso a breve un laboratorio musicale che effettua la nostra operatrice ogni lunedì pomeriggio. Abbiamo attivi laboratorio di felegnameria, laboratorio tessile gestito da un'altra operatrice. Quante persone frequentano questa cooperativa? Dai 50 agli 80 ingressi. Diciamo che nel periodo estivo sono meno gli ingressi rispetto al periodo invernale. Tu sei lo psicologo di questa cooperativa. Mi rendo conto che sotto questo profilo l'obiettivo è ancora più delicato, no? Certo, raccolgo tante storie disparate. Storie di vita racchiudono tanta sofferenza e cerchiamo passo per passo di dargli una nuova vita a queste persone. Faccio da case manager a persone che vivono in strada cercando di seguirli passo passo in ogni step, dandogli anche un'autonomia.